Musica La femme qui crie aux antennes de radio Et très ! Oh, oh, ça va pas encore, qu'est-ce qui te prend ? T'es folle ou quoi ? Où nous ? Musique 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 Sono benedente e goffa. L'ultima volta ho chiamato un dentista in Bastia per fare un rendezvous domani mattina in urgenza. Come sei la mia d'opogallo? Potrei mangiare qualcosa? Non verrà. Ho il cuore, ho il cuore. Ti avrà un cuore. Ti avrà pronto. No, di nulla. Mi chiedo qual è che c'è il cuore in questa casa. Ci dovrebbe anche di domandare una piccola pensionella. Per me. Basta, basta. Non sopporto più, non sopporto più. Ehi donna, sei sempre a zezza, sei a due occhio. O io ho tempo. O io ho tempo. O io ho tempo, è un cuore dopo questa ciocciata. Che t'enno vinto. Questa monna, sei ora, sono passate da un manatello. Davanti a me, un coppio dirà, devi comprare il buono e giocare bene. E la baguetta è trocuita. E la cupietta è trocua. E un corno. E il raso lo gusti per comprare i due bancholetti che era brazzato. E allora? E allora? E allora? Ti ho comprato un'onda. E poi dopo ho parlato di bastiglia che aveva una brisa di sangue, vedi? Sette ore. Dice a cinque ore davanti a me quando a me hanno dormito sopra il luogo. E allora? E allora? Allora? Sori dirà da un Udamp che vennerà a me hanno messo il gusto davanti a me. Eeeh, sono becchi. Non lo sai come le sovi, no? E' Udamp, non lo conosce mai. E io ho un affare a 60 anni, e io ne ho capito. E, 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 e. Guarda qui, Gio Gio, da qui a 20 anni. A 60 anni anche lui. E tu non sei mica davanti a me, no? No. Ma sono di me. E, come si fa fai freddo. A me pelle, ti le dico. Tu veux un tècheo? Non, 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 non. Tu veux pas qu'on fasse un gros feucheminé? Oh, ce serait une bonne idée. Mais faut nettoyer l'insert. Oui, oui, mais pas de soucis, c'est vite fait, ça. C'est vrai? Ben oui. Génial! Bon, d'abord tu vas aller chercher du bois parce qu'on en a plus. Et puis tu iras chercher aussi des cagettes dans la cave de mon père. Et faut acheter des briquettes pour l'allumage ou alors tu vas au grenier et tu trie du papier. Et puis ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de ramonnage. Fais moins de tes vins. Torni, on a vu le tour à rougea d'Inbastilla. Torni? Eh, torna. Et toi, c'est quoi ? 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 Oh, sai che Matteo mi ha chiesto di andare al maraton di idete rose con lei? Idete rose? Si, è il maraton per un gran cario betto Ah, è tu, quando ti basta fare un maraton che tu non ti fai? Eh, sicuro Perché, il Dr House non è soppato, e allora? Ah, il Dr House è un film Eh, io ti parlo di un maraton di idete rose e tu mi parli di Dr House Ah, è tu che mi parla di Dr House? Eh, perché che mi parla di un moino, tu? Intento qui Jojo la dava un maraton, 20 km, e 2000 m di disliwello, abba? Oh, ma la chago, si manco più un trainello Eh, oh, ba, e, ubi, bo, bingo, basso, rio, ingo, mi biego, mi stintzo O'nadio isonio d'entraînamment, o'nadio isonio Ah, Jojo, eh, non a ma bisognino Eh, po, Jojo, tu tu jake ludoc a rièche, uo transforme dia, uo magnifiche Ah, 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 uo champ, eh, 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 eh Grazie per la visione!